Ma solo una? Ho capito? Se tu tra le mani ce ne dovessero essere due, tu ne prendi solo una, vero? Promesso? E dai un bacio a nonino tuo, dai un bacio, lo sai che io ti amo? Dai, allora, facciamo così, dai, 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 prendine una, tu, sempre con la telecamera, sempre inquadratele là, mischia, no, mischia prima, mischia prima, no, non è così, brava, adesso dammene una, piano, fai vedere, fai vedere. Aspetta che apriamo, apriamo assieme, vediamo, vediamo, vediamo c'è il fortunato o la fortunata. Quella, se dici io non lo so, però quella volta è molto utile, perché senza di questa noi non potremmo fare la benedizione del pane. Qui è scritto, ma la farina, ma la farina è buona, non è ma la farina, guardatelo. Ora non lo so, se la signora Mala, farina, spero che abbiano segnato bene, Mara, ci sta guardando, deve telefonare. Eh? È Mala, Mala. Mala. No, no, Mala. Mala è il numero. Mala inizia col 71, nell'eventualità ci dovesse telefonare. Deve telefonare la signora Mala nello spazio di 15 minuti, se ciò non dovesse avvenire, saremo... In linea io. Ce l'hai in linea, da dove chiama? È Napoli, perché vedo 08171 inizio. Dal numero. Dal numero. Mara, quando pensa di venire a ritirare... Fammi vedere il collier? Fai vedere il collier? Quando pensa? Sì, sempre durante una diretta. Domani io non ci sono, forse potrebbe venire mercoledì o giovedì se vuole. Giovedì è meglio perché c'è anche telea e devono vedere tutto il pubblico, ok? Va bene? Allora è agilicato questo, mettilo vicino e dallo alla signora che lo mette nella bustina. Dice lei è Mala la bionda del vomero. Mala la bionda del vomero. Grazie amore.